Ragazzi, come penso voi tutti sappiate, io e Gabriel abbiamo giocato fin da piccoli insieme, siamo amici di infanzia e fin da quando eravamo piccolissimi, 5-6 anni, abbiamo giocato insieme a Fagagna. Io, lui e altri nostri amici, Michi, Peppo, con cui siamo sempre cresciuti e con cui abbiamo condiviso tantissime esperienze non solo di basket ma anche della vita fino a diventare grandissimi amici ancora oggi. Quindi quello che posso dirvi è di continuare così, di seguire gli insegnamenti di Gabri e di continuare a divertirvi e a rimanere appassionati al gioco con la passione che è la cosa più importante, il motore proprio per poter vivere al massimo queste esperienze, che sono esperienze di vita che poi dopo, oltre a questo, portano tante amicizie e tante gioie. Perciò un saluto a tutti i ragazzi di Casorezzo Basket e una dedica speciale al piccolo Andrea. Ciao!